Si è tenuta ieri a Palazzo Sant'Agostino a Salerno la tavola rotonda dal titolo Scommessa tra le righe, il rilancio dell'editoria dal sud. Evento organizzato dal quotidiano La Città con il patrocinio della provincia di Salerno. Obiettivo dell'incontro? Fare il punto sul settore dell'editoria al sud ed illustrare un'ipotesi di rilancio che parta proprio dal mezzogiorno. È una sfida tra le righe perché noi intendiamo ragionare su quello che c'è oggi ma soprattutto su quello che potrebbe esserci domani con tutte le sfide che la tecnologia ci dà ma anche con tutto il rigore professionale che una realtà mutata ci impone. Diciamo che abbiamo iniziato con la nuova presidenza che ho assunto nel mese di luglio ci siamo dati degli obiettivi molto molto forti. Abbiamo gli editori che per la prima volta sono veramente uniti e quindi abbiamo intrapreso diverse iniziative. La prima è stata quella anche della vittoria del copyright che secondo noi è un punto fondamentale per remunerare il vostro lavoro, il lavoro dei giornalisti, il lavoro dei letterati, il lavoro dei poeti, il lavoro dei cantanti. Quindi questo è molto importante. E poi invece abbiamo da ricostruire il rapporto tra le istituzioni e i lettori perché la politica in questo momento sta veramente essendo non più vista in maniera positiva i quotidiani possono essere una cerniera tra il lettore e le istituzioni. In questo momento qui abbiamo anche dei governi che sono un pochettino anche se non è il patto di governo riguarda l'editoria ma possiamo dire che il Presidente della Repubblica è stato il baluardo ed è stato colui che sta tenendo la bara dritta e noi lo sosteniamo in tutto e speriamo di avere dei dialoghi costruttivi col sottosegretario Crimi per poter realizzare qualcosa che vada bene non per gli editori deve andare bene per i giornalisti, per i poligrafici, per tutta la filiera per i distributori e per gli edicolanti. Sono circa 60.000 persone che ci lavorano e il lettore deve avere un giornale di qualità per avere un giornale di qualità il giornalista deve avere a disposizione dei mezzi per poter documentarsi bene, per non sbagliare foto per avere il tempo di preparare l'inchiesta come si deve. Si parla molto di fake news in questo momento e devo dire che si sono resi conti a livello mondiale che le fake news stanno dando dei danni incalcolabili diciamo proprio alla crescita di ciascuno di noi. Quindi i prossimi passi sia in Italia che in Europa sarà quello di dotare di un bollino di qualità coloro che sono sia nella carta stampata, sia nella televisione, sia nella rada dei brand riconosciuti di qualità che fanno un lavoro serio, obiettivo, senza fare della demagogia.